Attaccanti in arrivo tra 30 secondi. Ciao! Durerà poco, me lo sento. 5, 4, 3, 2, 1. Attaccanti in arrivo. Fermate i cari. Non ti ferrai. Non ti ferrai. Pronto a partire. Non ti ferrai. 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 Ancora. Non ti ferrai. Non ti ferrai. Non ti ferrai. Non ti ferrai. Non so, non so, non so. Un uccisione doppia. Nessuno mi può fermare. Un mico individuato! Un mico individuato. Un mico individuato. Un mico individui. Mekrya a rapporto Mancano sessanta secondi Tanta in arrivo! Il sogno è eliminato Allora non si la scuola Un'esercito 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 Mancano trenta secondi Non c'è nessuno! Mancano dieci secondi. Non c'è nessuno. Non ci serve. Iniziamo la sequenza di autodestruzione! Ora è la cosa a vedere! D'accordo! Un uccisione. Un uccisione. Vittoria!